non devi dire buongiorno buonasera stavolta buonasera ben trovato un saluto a voi l'ultima volta per partire se riusciva abbiamo combinato mica si sa non mi veniva che non mi veniva c'era una cosa che non mi veniva non mi ricordo che come si sa che ha trampolato aggummi taglati stringi Enrico Enrico Luca stringetemi poi fosse uno piccoletto tu è Spadevito ci è troppo ci è troppo a noi 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 a noi